Salve a tutti platinatori, questo è il decimo episodio della mia video guida veloce su The Witness dove otterremo il nonno trofeo del gioco, cioè KEEP. Veloce vale a dire che non vi spiegherò nulla sugli enigmi, semplicemente ve li farò vedere e voi li copierete. Se volete un approccio più profondo al platino vi lascio in descrizione il link della mia guida agli enigmi generali di The Witness e di tutti gli enigmi di The Witness. Detto questo possiamo cominciare da dove ci siamo lasciati nel precedente video. Eravamo qui, stavamo dentro la stanza, avevamo attivato il laser, torniamo indietro qui e attiveremo uno shortcut adesso. Allora, risolviamolo così questo, spostiamoci qui e aspettiamo che finisca di spostarsi a destra la barra degli enigmi come vogliamo chiamarla. Risolviamo questo enigma così e questo ponte si abbasserà, ci permetterà di passare. Abbiamo tagliato un bel pezzo. Saliamo. Siamo qui e entriamo dentro questo labirinto. Aia. Risolviamo questo enigma così. Scusate, ho sbagliato. Risolviamo questo enigma così e continuiamo qui. Scusate, ho sbagliato. Risolvete quest'altro enigma. Chiaramente la porta sarà chiusa e ve lo troverete di fronte. Risolvete anche questo. E quest'altro. E quest'altro. Adesso saliamo le scale, entriamo dentro il torrione. Saliamo. Ascriviamoci e risolviamo questo enigma qui che ci permetterà di attivare il laser. Ascriviamoci e risolviamo questo enigma qui che ci permetterà di attivare il laser. Perfetto, spero di esservi stato d'aiuto. Ci vediamo al prossimo episodio e buon platino a tutti. Grazie. Ora.